Voglio portare il mio saluto a coloro che convengono per questo momento di formazione del convegno Caritas per la giornata diocesana Caritas e la giornata per i poveri. Auguro buon lavoro e nello stesso tempo vorrei incoraggiare questa considerazione che in un momento in cui sembra predominare l'allarme, le reazioni emotive, l'ansia, il panico per cui sembra che siamo concentrati su quegli aspetti un po' irrazionali e incontrollabili che le notizie, le informazioni sul contagio seminano dappertutto. Ecco, in un momento così di reazioni emotive noi proponiamo un percorso formativo. È un modo con cui diciamo abbiamo fiducia nell'uomo, nelle donne di oggi, abbiamo fiducia nella comunicazione che forma, che istruisce, abbiamo fiducia nel futuro e quindi ci prepariamo, ci formiamo, ci predisponiamo a riflettere su quello che la Caritas fa, su quello che le Caritas parrocchiali devono fare per animare le comunità a essere come devono essere, luoghi dove si pratica l'accoglienza, la solidarietà, l'assistenza, l'ascolto, e tutte le forme di prossimità che sono necessarie. Perciò mi sembra questo impegno per una proposta formativa in un momento come questo, è un momento particolarmente prezioso ed è un segno particolarmente promettente. Quindi auguro buon lavoro a tutti. I relatori, come ho visto dal programma, sono persone che hanno un messaggio da dare che merita di essere ascoltato e il compito dei presenti è quello di poi fare da tramite perché nelle singole realtà locali il messaggio arrivi e l'incoraggiamento sia persuasivo e la testimonianza continui ad essere un segno di un volto di Chiesa che noi vogliamo presentare a questo mondo, in questa società, in questo momento. Buon lavoro a tutti.